Mia nonna lo diceva sempre, acqua e gelo non restano in cielo. Proprio così, a fronte di lunghi periodi di siccità, potrebbero verificarsi eventi meteo disastrosi. Anche per la tua casa e il tuo giardino. Ciao, sono Roberto, ti aiuto a realizzare e gestire il giardino in modo semplice, salutare e sostenibile. Il mio metodo tutela l'ambiente e va contro ogni tipo di spreco. L'acqua, un elemento venerato da sempre perché essenziale alla vita, potrebbe diventare sempre meno disponibile, soprattutto nei periodi di maggiore necessità. Ad oggi, in certi paesi, lo spreco ha raggiunto cifre a dir poco vergognose. In Australia e Stati Uniti, ma noi seguiamo a rota, il consumo di acqua per mantenere lussureggianti i giardini ha superato la stessa agricoltura intensiva. E questo fenomeno è direttamente proporzionale al benessere generale. Sembra che il potere economico possa legittimare a fare ciò che si vuole, senza alcun rispetto per nessuno. Questo aspetto diventa poi drammatico se rapportato alla grandezza dei giardini. Pensa un po', più sono piccoli, maggiore è lo spreco in proporzione. È proprio assurdo, non trovi? A questo malcostume hanno contribuito anche i moderni sistemi di irrigazione automatizzati, certo, sono comodi, però non rendono conto dell'effettivo consumo e non si adattano mai ai bisogni effettivi delle singole piante. Per molte persone la cosa importante è che le piante sopravvivano, a quale prezzo poi non è dato saperlo. Questo sistema invece, alla lunga, finisce per viziarle e indebolirle, rendendole indifese ad aggressioni e malattie o parassiti. In definitiva, è un circolo vizioso. Più irrighi, più dovrai concimare, più le tue piante si ammaleranno e dovrai ricorrere poi a prodotti velenosi impattanti. Se invece le tue piante hanno la fortuna di non ammalarsi, avranno comunque una crescita spropositata, che ti impegnerà di più nella potatura o nel taglio del prato, insomma, nella gestione di tutti i rifiuti. Tirando quindi una riga, avrai maggiori costi, più lavoro e spreco di risorse. È così ovvio che ti basta fare due conti. Il tuo giardino ha davvero bisogno di uniformarsi agli standard che impongono certi cliché? Quanto ti merita continuare a seguire queste mode così effimere? Fammi sapere cosa ne pensi. Se vuoi maggiori chiarimenti in riferimento al tuo caso specifico, vieni nel mio sito giardinofuturo.it dove trovi altri contenuti di valore e l'unico accesso per interagire in modo diretto con me. Ricorda, il futuro dipende anche da te, a cominciare dal tuo giardino. Ciao e ai prossimi video! Ciao e ai prossimi video!